Contenuto dal secondo LP che avevamo fatto, questo brano è titolato Ommini Allenu, cioè uomo straniero, uomo di fuori e qui trattiamo il tema della violenza sulle donne, della violenza in famiglia nel senso di maltrattamenti e cose varie qui appunto è lei che prega finché il marito la smetta con questo comportamento violento anche perché è poi condizionato dal vizio quindi vizi che di solito la droga o il bere portano all'esagerazione all'estremizzare il carattere già violento in questo caso di questa persona che questo è tratto da un fatto reale comunque sono personaggi frutto della mia fantasia ma che fanno riferimento a fatti realmente accaduti e quindi lui giura a lei, gli promette di comportarsi bene davanti a Dio giura la canzone diciamo che finisce bene perché poi lui alla fine cambierà è intitolata appunto Ommini Allenu Sant'Ie, scuri genti romie, manca un angelo in cielo e quindi lui aiutare il corso di un'angri, manca un'angri e il corso di un'angri che si è una pelle, l'anima, manca un'angri che si è una pelle, manca un'angri che si è una pelle, manca un'angri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.